Ballando con le stelle è un lavoro che si può fare di routine o si può fare mettendoci tutta l'anima come se fosse l'ultima cosa che fai nella tua vita e noi lo facciamo un po' sempre così perché è un progetto complesso che ha tante sfaccettature e quindi solo mettendo veramente ogni volta buttando il cuore oltre l'ostacolo si riesce a portare a casa un prodotto credibile poi una storia di passione che a noi piace raccontare tutti quanti insieme al pubblico a casa perché è la passione dei nostri personaggi meravigliosi che hanno tutti loro una passione principale che è la loro carriera, è la loro storia che può essere la musica, lo sport, spettacolo, la scienza ognuno porta la sua passione e il fuoco di quello che ha guidato la sua vita e non sono mai vite, come posso dire, grigie e banali sono sempre vite, tutti gli uomini sono eccezionali però queste sono vite un pochettino più eccezionali perché sono vite che hanno messo al centro della propria strada il talento e quindi il desiderio di sviluppare qualcosa che ti è stato donato ma che tu vuoi portare dentro le case della gente e questa storia di passione diventa poi una grande storia di bellezza perché la danza è bellezza io ho sempre detto che la bellezza è l'unica cosa non l'ho inventata io questa frase che può salvare il mondo ma ci credo perché se noi abbiamo il gusto che ci porta a cercare qualcosa di più bello di più alto, di più magico che ci faccia sognare non siamo lì nel fango da cui la creazione ci ha tirato fuori veramente aspiriamo a qualcosa di più alto i maestri sono proprio le persone che sanno interpretare tutto questo perché sanno infondere a questi meravigliosi ragazzi perché poi alla fine sono tutti ragazzi quando arrivano qui e diventano anche chi ha superato gli 80 è una ragazza, è un ragazzo che arriva qui perché fa l'allievo e quindi si mette nella condizione psicologica di chi deve aprire la mente per imparare qualche cosa che non gli appartenga di nascita perché ha fatto qualcos'altro nella sua vita queste sono storie di rinascita tutte quante si rinasce ballerini rinascendo ballerini si scoprono tante cose si scoprono i muscoli che fanno male che dolgono la schiena acciaccata i piedi doloranti ne succedono di tutti i colori però poi si scopre anche la passione per un'arte che è quella del ballo che sicuramente non è facile non è una cosa che diciamo si possa imparare così d'amblè ma praticare il ballo come noi spiegheremo in questa puntata grazie poi vi dirò a chi praticare il ballo ti scatena delle emozioni indimenticabili e quindi è qualche cosa di unico allora io vi voglio presentare il cast e poi vi devo presentare anche la linea che sta di fronte a noi che non è meno importante perché dall'altra parte dello studio ci sono quelli che sono un po' il motore di tutta la trasmissione allora intanto però cominciamo col cast e comincio con una ragazza giovane e impetuosa perché lo è una ragazza impetuosa che è Valeria Fabrizi insieme sì 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 tesoro mio da no adesso è una presentazione senza risposte giovane e impetuosa perché la vedrete sulla pista insieme con Giordano Filippo è una ragazza che balla il cia 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 in prima puntata come poi sono ragazze meravigliose Sabrina Salerno con il suo Samuel Peron Mietta con il suo Michael Fons e lì vedo la nostra Bianca Gascoigne che viene dall'Inghilterra è una star inglese da noi è un esordiente ma vedrete che è un esordiente che ci darà grande soddisfazione e colorata ad azzurro come il cielo in primavera in estate quando il cielo veramente allarga l'animo c'è la nostra meravigliosa Risa eccola qui con il suo Vito Coppola che è una nu entry di Ballando con le stelle è un grande campione quanti sono i titoli? 11 titoli italiani? 11 quindi insomma ne abbiamo da regalare in giro se qualcuno vuole dei titoli li possiamo regalare però voglio dire al di là di questo sono una coppia bellissima perché come tutte le altre coppie hanno creato una empatia speciale poi continuiamo perché da questa parte si sono infiltrati alcuni uomini del cast allora io pregherei Valerio Rossi Albertini di alzarsi in piedi perché se no lì dietro si è un po' nascosto eccolo qua con la sua Sara Di Vaira il nostro scienziato professore di fisica e noi posso dire che abbiamo avuto veramente un colpo di fortuna perché non potevamo sapere che Giorgio Parisi sarebbe stato avrebbe vinto il Nobel quest'anno raccontando di se stesso non solo la sua vita scientifica ma il fatto che lui ama ballare e balla salsa, baciata e forro brasiliano questa volta Valerio Rossi Albertini ballerà invece lo diciamo si vallo poi leriamo poi leriamo un tango un tango perché è coerente perché è pertinente a quello che vorremmo mostrare in questo momento e non lo spoileriamo però quello che andiamo a mostrare sarà qualcosa di vicino alla scienza ma vicino alle emozioni umane c'è Alvise Rigo alzati in piedi con tutta la sua chioma da Sansone e la sua Dalila dietro di lui e c'è Tove Vilfor e poi ci giriamo da quest'altra parte per no Mietta l'avevo salutata prima come no? certo sei tu che sei distratto Paolo Belli allora cominciamo da un altro ragazzo che è Memo Remigi con la sua Maria Ermaccova ragazzo esordiente ballerino alle prime armi e quindi ragazzo siamo nella prima fase della crescita ragazzo Memo Remigi con la ragazza Valeria sì facciamo due straordinarie infatti ci alleniamo io e lei la parte non spoilerare quello che farete perché sarà freggiato ci incontriamo facciamo delle cose particolari con i passi che io leggo in questo modo per cui non ci sono problemi prego è un po' il capoclasse diciamo no? perché per diritto d'anzianità fa il capoclasse abbiamo l'uomo che mi ha fatto penare di più al mondo mi ha costretto agli appuntamenti all'aeroporto no? parliamo di quello col cappello perché ancora non ci siamo incontrati all'aeroporto io e te Morgan ma con Albano sì quanti appuntamenti all'aeroporto? è stato solo un atto di grande onestà perché non volevo che attraverso il ballo andassero via tanti anni di degno mestiere nel campo della musica ma siccome mi ha invitato ha insistito ha insistito e ha detto ma non è che sto sbagliando mi sono guardato allo specchio ho detto forse però provaci per avere la giusta risposta tesoro mio sono abbiamo eccola qui ho già spessato una gamba no chiariamo che non è stato Albano a creare l'infortunio che purtroppo come dire reso a Oksana una ballerina dimezzata c'è un quarto di ballerina perché purtroppo ha avuto un grosso problema ad un piede che adesso noi magari a parte ne parliamo insomma abbiamo solo in parte risolto nel senso che lei porta un tutore ha una graffa che le tiene l'osso solido eccetera sicuramente non potrà come le altre ballerine davvero essere il sostegno del suo partner perché lei stessa ballerà su una gamba sola vedrete faremo una cosa veramente molto particolare le insegnerò io a ballare vai Albano con una gamba in merda le insegno io altro uomo che mi ha fatto tanto penare è come vedete un pavone multicolore perché e beh sì sei bianco rosa rosso azzurro tutti i colori della bellezza no? sei anche un po' Chopin così con questo tuo abbigliamento quindi un altro personaggio straordinario a cui devo dire grazie perché dopo tanti anni in cui io insistevo mi ha detto di sì e quindi abbiamo l'occasione per fare qualcosa di speciale con lui davvero grazie e c'è accanto a te una donna speciale che è Alessandra Tripoli quindi io stessa sono molto curiosa di vedervi in pista sabato sera anche io ecco tutti tutti curiosi e adesso andiamo al nostro sorridente campione eccolo qui Fabio Galante Fabio che ci porta non solo e vabbè diciamolo è un uomo ai tante non si può nascondere la cosa però ci porta anche l'allegria di un modo di prendere lo sport che è che è bello fatto proprio con così con gioia accanto a lui una nuentri che è già Dalini anche lei campionessa di grande esperienza che viene anche dal street recam dancing inglese e quindi un ottimo come dire un'ottima aggiunta per il nostro cast e poi adesso mettetevi gli occhiali da sole perché quando si alza in piedi con tutte le luci la sua giacca comincerà è praticamente una mirror ball di una discoteca Federico Federico Lauri Federico Fashion Style il ragazzo pazzesco assolutamente pazzesco con una insegnante pazzesca che è Anastasia Cusmina e infine last but not least un grande campione un campione che guardate fa un percorso un po' curioso per i nostri ballerini perché sendo un grande campione di motociclismo quindi uno che è abituato alla ricerca della perfezione millimetrica perché in pista bisogna avere perfezione millimetrica per non rischiare la vita e stiamo parlando di Andrea Iannone qui da noi dovrà imparare un po' anche la dico tra virgolette la cialtronagine di chi sbaglia e fa finta di niente e sorride e rimedia così con un po' di gigioneggiamento che è una cosa che non appartiene al suo sport proprio non c'è per me è assolutamente impensabile sbagliare e continuare ad andare avanti ma come si fa? no non è possibile è chiaro ma anche questo fa parte di un percorso di vita e con lui Lucrezia Lando fresca campionessa della scorsa edizione buongiorno